Stati Generali dei Sindaci contro la soppressione del Tribunale di Sulmona e quanto emerso nel vertice istituzionale di questa mattina al Palazzo di Giustizia per la Difesa del Tribunale Peligno. Le istituzioni, nonostante la proroga accordata al Governo fino al 2020, non intendono abbassare la guardia e sono riunite in un summit alla presenza del Presidente del Tribunale Giorgio Di Benedetto, del Procuratore Capo della Repubblica Giuseppe Bellelli, della Senatrice Paola Pelino, dei Sindaci del Territorio e del Consiglio dell'Ordine. risponda quindi la proposta degli Stati Generali che fu già adottata nel 2011 quando la battaglia entrava nel vivo. L'idea è quella di arrivare a nome dei libere consigliari contro la soppressione del Tribunale. Non si abbandona nel frattempo la commissione istituita dalla Regione Abruzzo che dà manforte alla battaglia che si sta portando avanti finalizzata la tutela dei tribunali minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. Il Tribunale di Sulmona è il primo per efficienza tra gli uffici giudiziari del centro Italia, quinto nella classifica generale tra tutti i tribunali italiani, stando all'ultimo studio condotto da sole 24 ore. Il Tribunale della città Perini è anche al quinto posto di un'altra classifica, sempre del sole, quella sulla produttività, realizzata da Nendocondo sia delle capacità di riduzione dei fascicoli pendenti 7%, sia della durata dei processi 606 giorni, ma anche della carenza di personale, nonché degli organi citogati 0%, amministrativi 33% scoperti. In questa classifica primeggia a Bolzano, seguida da Rovereto, Novara, Lodi e quindi dalla città Pelinia.